Oggi in questo convegno organizzato dalla CGL si parla di Italia di Mezzo, del futuro dell'Abruzzo, della provincia di Teramo e di questa macro-regione. Oggi si interviene con delle proposte concrete o si rischia di essere fuori dalle dinamiche concrete che riguarderanno questa regione e le regioni dell'Italia di Mezzo, le quali, per questo avanziamo l'idea della macro-regione dell'Italia di Mezzo, oggi rappresenta, da differenza di ieri, l'unica area territoriale che i finanziamenti europei individuano come il punto fondamentale per la crescita dell'intero Paese. Per quale motivo? Perché fino a ieri tutta la crescita europea era finalizzata su un versante, una direttrice nord-sud, ma questa direttrice è stata modificata a livello europeo con l'allargamento ad est e tutti i nuovi finanziamenti sono legati a un'asse est-ovest, ovest dall'Atlantico verso i paesi dell'est, i Balcani e l'Italia di Mezzo è una piattaforma naturale che è in grado di raccogliere questo nuovo flusso di finanziamenti e questo nuovo flusso di crescita. Dove deve puntare però questo Abruzzo? Dove deve guardare di più, soprattutto la sua economia? L'economia abruzzese è un'economia che senza questa proposta rischia di essere un'economia ripiegata su se stessa. Io sono qui a Teramo dove un territorio come la Val Vibrata è diventato un territorio di area di crisi, piuttosto di area di eccellenza della propria produzione e anche il declino dell'Abruzzo dall'uscita dell'obiettivo 1 corrisponde a un'appetita considerevole del PIL. È evidente che anche per l'Abruzzo si pone il problema di quale direttrice di sviluppo deve essere in grado di cogliere e non v'è dubbio che quella che la ricollega solo sul corridoio adriatico rischia di tagliarla fuori. Per quale motivo? Perché siamo alle soglie di decisioni già prese dal governo attuale che potenziano rapidamente l'asse Bari-Napoli, ferroviario, che escluderà l'Abruzzo se non ci sarà un altro asse orizzontale che collega l'economia della Toscana del Lazio all'economia tirrenica e a quelle adriatiche. Da questo punto di vista siamo in una fase di ricostituzione di proposta politica nella quale anche l'Abruzzo ha un grande ruolo alla misura in cui riesce a fare questo passo avanti con le proprie istituzioni. Grazie a tutti.